Papa Francesco è arrivato in Firenze per la previsione a Piazza Duomo, accolto dagli applausi della folla che lo ha atteso lungo il percorso nel centro storico. La Papa Mobile si è fermata al fianco del Battistero, accolta dal suono delle chiarine di Palazzo Vecchio, una visita importante quella di Papa Francesco nel capoluogo toscano Firenze. Il Civescovo di Firenze tuttavia ha accompagnato il Papa all'interno del Battistero dove Francesco si è soffermato innanzi alla crocefissia nebianica, il dipinto di Chagol esposto per l'occasione. Davvero attraversato, uscito dal Battistero, dalla porta del Paradiso, prospicente la gradinata del Duomo davanti al quale il Papa è stato accolto dal cardinale al Microbagnasco, presidente della CEI. In grande età il Papa parla ai partecipanti del convegno ecclesiale italiano. Papa Francesco ha benedito tutti i suoi presenti, ha donato a ciascun malato Rosario Santino e per quanto riguarda mio padre quando l'ha avvicinato l'ha ringraziato per il suo sacrificio e anche per il lavoro che fanno per lui carabinare forse l'ordine così avrebbe detto, la figlia di Giuseppe Giangrande, l'uomo Martina, l'uomo che per l'appunto fu ferito nel 2003 a Palastro Chigi e che era oggi tra gli ammalati incontrati da Papa Francesco e la Chiesa di Santissimo Annunziata. Sono anche molto contento avrebbe aggiunto Martina che mio papà abbia potuto stringere la mano al Papa, una cosa che gli ha fatto un immenso piacere. Non dobbiamo essere ossessionati dal potere anche quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale all'immagine sociale della Chiesa. Se la Chiesa non assume i sentimenti di Gesù, si risolienta, perde il senso, vorrebbe detto Papa Francesco al convegno della Chiesa italiana. Disinteresse, umiltà, via attitudine questi, ha detto Papa, i tre tratti che voglio oggi presentare alla vostra meditazione sull'umanesimo cristiano che nasce dalla umanità del figlio di Dio. E questi tratti dicono qualcosa anche alla Chiesa italiana che oggi si riunisce per camminare insieme. Questi tratti ci dicono che non dobbiamo essere ossessioni dal potere, anche quando questo prende il volto di un potere utile e funzionale all'immagine sociale della Chiesa. Bene, questo sarebbe quanto. Iscrivetevi, commentate e complimenti a tutti i nostri amici.